L'olla da ripa bianca di Monterado è un contenitore utilizzato per cibi in cucina. Si tratta di un recipiente in ceramica che è stato decorato con impressioni a unghiate ed è un oggetto che è stato realizzato nel Neolitico. Quando l'uomo da cacciatore e raccoglitore diventa sedentario a causa del cambiamento climatico e quindi comincia nel villaggio anche a realizzare questo tipo di recipienti. È interessantissimo il fatto che questo recipiente, oltre ad essere un vaso funzionale allo scopo per cui è stato realizzato, è stato però anche decorato in maniera molto attenta, scrupolosa, con unghiate ma anche con delle costolature che consentivano di tenere il vaso in maniera più sicura tra le mani.